Oh eccoci qua a commentare oggi i look super basici un po' scontati di Chiara Ferragni che si trova in questi giorni a Portofino con il marito per una vacanza accusata di indossare sempre cose ultra costose ma poco ricercate quindi toppini sotto al seno, pantaloncini corti tutta l'estate qua è una DV per Vuitton quindi maglia appunto nera sopra l'ombelico, questo jean signature del brand e la borsa che è in edizione limitata la borsa a Portofino viene fatta in 150 pezzi più o meno non la trovate sul mercato se non dopo in un secondo tempo mercato delusato a 2500 dollari Chiara utilizza cose effettivamente magari poco studiate ma perché lei ha una dimestichezza con luxury molto maggiore della nostra è a suo agio anche mettendo cose easy un po' buttate là ma che si relazionano bene anche con quello che stiamo noi tutto il giorno quotidianamente anche se i prezzi effettivamente sono alti qui è sempre in Otomi Hilfiger e il suo manager gli ha detto questo è old money cioè non ho bisogno di esibire chissà quale miss durante il giorno come fareste voi come farei io magari i nadivi mi farei mandare chissà quale abito da Vuitton qui invece la sera Chiara ci sorprende perché la miss è bellissima Defam quindi persone che escono dall'istituto Marangoni che fanno questo brand ricercatissimo con un sacco di embroideri molto particolare lei passa da mamma impegnata durante il giorno anche a Portofino è sola a sirena con questa miss incredibile Grazie